L'ordine di scuderia sarebbe arrivato via chat. Molta comunicazione negativa su partiti e candidati in Veneto. Tirare fuori il peggio che si può tirar fuori, nefandezze e foto imbarazzanti. Il caso, messo nero su bianco da un quotidiano locale, esplode durante la presentazione padovana dei candidati 5 stelle, seduti uno fianco all'altra al caffè Pedrocchi. No comment dal coordinatore regionale della campagna, Jacopo Berti. Fugge ai microfoni anche il responsabile della comunicazione. Chi accetta il confronto è Silvia Benedetti, deputata pentastellata uscente e ricandidata al plurinominale alla Camera. Credo che sia una, quello sì, un'amplificazione di quanto scritto. Magari le parole usate non sono giuste, il concetto è questo però, riflettiamo un attimo. Abbiamo candidati come Niccolò Ghedini. Se qualcuno va a vedere sul sito del Senato, Niccolò Ghedini risulta assente per il 99,9% di questa legislatura. Potrebbe essere definita questa sì una rifandezza, perché io penso che se una persona viene pagata per lavorare per il paese, non ho capito perché si ripresenta in quanto assenteista. Credo che sia un fact checking, cioè una verifica dei fatti relativi ai candidati che si presentano. Verifica dei fatti, liquida così la pratica Silvia Benedetti e invita anche i cittadini a farla. La verifica dei fatti potete farla anche su di me, cioè non è un problema. Nel momento in cui una persona non infrange la legge, una persona si impegna nel proprio lavoro, ha mantenuto le promesse fatte, secondo me è una verifica normale che tutti i cittadini dovrebbero fare. Intanto la presentazione va avanti, cerca e riconferma. Il Senato, Giovanni Indrizzi, corrono per la prima volta l'ex consigliera comunale di Padova, Francesca Betto, rappresentanti dei truffati dalle banche, come Alberto Artoni, il direttore del Conservatorio, Leopoldo Armellini. Difende le parlamentarie Francesca Betto. Vorrei sapere un elettore del PD o un elettore di Berlusconi chi esattamente ha scelto, dato che non gli verrà data nemmeno la possibilità di scegliere poi il giorno del voto, perché le preferenze ce le hanno tolte. Difende la cultura, il Conservatorio è nato in Veneto ma bistrattato dal governo, il direttore del Pollini, Leopoldo Armellini. Una candidatura la sua, nata così. Avevamo avuto una crisi nel posto terremoto del 2012, avevamo avuto una grande crisi, proprio la struttura sembrava cedere. L'unica, nonostante io avessi sollecitato tutte le forze politiche, è stata l'onorevole Francesca Businerolo del Movimento 5 Stelle.